Un po' di muscoli e di misure in più per la nuova Mini John Cooper Works Country in realtà si dico John Cooper Works anche se ovviamente le dimensioni non cambiano da una versione all'altra ma questa versione in particolare è la più potente termica disponibile vi ripeto un'auto che ha avuto un ottimo successo per Mini anche se è la meno Mini di tutte le Mini perché naturalmente è abbastanza grandicelle, è un crossoverino comunque basso nella seduta ma comunque anche a forma di suvettino, un po' una via di mezzo chiaramente e si aggiorna rendendosi ovviamente molto molto più futuristico, molto più moderno e crescendo appunto anche nelle dimensioni siamo su 4,45 m di lunghezza tanto per capirci quindi sono circa 15 cm in più rispetto alla generazione precedente e abbiamo un passo di 2,69 m un passo bello generoso che dovrebbe garantire in effetti molto spazio a chi si andrà a sedere dietro e poi eventualmente anche un bello allungamento sul posteriore vedete quanto è bombato la parte posteriore che dovrebbe garantire invece un buon bagagliaio andiamo a vederlo subito tra pochissimo vi faccio vedere un po' nel complesso come è cambiata questa nuova generazione qui davanti abbiamo un faro con la firma luminosa modificata che non è rotondo ma è una via di mezzo rispetto al passato e rispetto al rotondo tipico che c'è oggi sulle Mini Cooper classiche comunque un faro molto interessante ovviamente full led abbiamo poi questa calandra qui davanti che ingloba anche il radar per la guida autonoma di livello 2 perché finalmente sulle Mini arriva la guida autonoma di livello 2 come in casa BMW tanto per capirci con tanto anche di telecamera qui davanti e poi essendo una John Cooper Works abbiamo ovviamente oltre ai loghi specifici anche tutto il resto del bedging in nero lucido con dei dettagli naturalmente rossi per andare a richiamare un po' la sportività rosso recuperato poi anche sulle pinze dei freni che abbiamo poi anche qui dietro con dei dischi forati di diametro bello generoso abbiamo poi dei cerchi da 20 pollici in questo caso montati su come 245 fianco 40 quindi delle gomme anche belle corpose sicuramente un cerchione molto particolare che risembra un po' la bandiera appunto di John Cooper Works quindi sicuramente molto carino diamantato in questo modo bello particolare la macchina è particolarmente muscolosa da vedere nel senso che rispetto al passato è meno morbida ed è un pochino più grintosa sotto molti aspetti qui dietro abbiamo il faro che continua ad avere all'interno un richiamo alla Union Jack adesso quando è spento è difficile vederla ma chiaramente questi pixel giganti possono andare a risemblare alla forma della Union Jack come abbiamo già visto su altre mini però un faro ancora verticale bello sottile in realtà è muscoloso ma è sottile è sviluppato in verticale con poi qui di nuovo il logo tutto nero per questa Countryman John Cooper Works che vedete anche qui sotto e poi essendo chiaramente la versione più sportiva non mancano i quattro terminali di scarico che dopo andremo a sentire se volete non sono i più rumorosi della storia ma durante la guida ve lo faccio sentire per quanto riguarda il bagagliaio considerate che siamo su una fascia che va da 450 a 505 litri circa questa versione qui nello specifico non essendo ibrida in alcun modo e quindi non avendo alcun tipo di furto di spazio da parte di batterie o di motori elettrici ha il massimo disponibile 500 litri circa appunto mentre invece sulle versioni ibride arriva a 460 ed eventualmente sull'elettrica 450 litri di bagagliaio poi qui dentro abbiamo comunque anche il gancetto ad esempio c'è il pulsante per tirare fuori il gancio traino una luce di cortesia a led una presa a 12 volt qui nascosta dei ganci per la spesa lo spazio è abbastanza regolare i sedili si abbattono in configurazione 40-20-40 quindi la versatilità qui sicuramente non andrà a mancare su questa vettura andiamo a sederci dietro così valutiamo questo passo di 2,69 m vediamo un po' com'è considerate che il sedile è tutto arretrato perché in automatico torna indietro per far scendere con più comodità il guidatore ed effettivamente qui dietro ragazzi non si sta affatto male le forme belle regolari del tetto che non è discendente ma è bello dritto permettono di avere il massimo dello spazio anche in presenza di questo tetto apribile ovviamente che dà una bella reggita all'abitacolo e mi lascia ancora un bel po' di centimetri stessa cosa anche per le gambe vi ripeto il sedile è tutto indietro ma ho ancora un bel po' di centimetri e anche per i piedi non c'è assolutamente alcun male è bello anche i rivestimenti sono molto piacevoli c'è un po' di rigido ma è tutto liscio è rigido ma liscio mi fa molto molto piacere da sentire si percepisce una cura al dettaglio bella interessante con delle maniglie guardate che forma che hanno molto particolare ma non mancano ovviamente anche delle tasche retroschenali due presi vestibili tipo C con le bocchette del clima qui divise naturalmente la zona è una sola ma le bocchette sono divise e abbiamo poi il divanetto naturalmente che può scorrere per andare a garantire un pochino più di spazio per il bagagliaio oppure per chi siede dietro quando c'è necessità quindi questa aumenta molto la versatilità della vettura andiamo a sederci al centro e devo dire che tutto sommato il divanetto rimane bello morbido non è troppo bombato in fuori quindi anche qui per la testa non manca spazio per le ginocchia direi che ci siamo le guide dei sedili non danno fastidio quindi ragazzi qui dietro sì viaggiare in quattro sarà sempre più comodo però anche il quinto passeggero non si fa una brutta vita devo dire qui dietro molto piacevole poi il divanetto è bello inclinato i sedili sono comodi morbidi ben imbottiti fanno molto piacere sono piacevoli da andare a sfruttare quindi sotto questo punto di vista per la countryman è veramente un ottimo lavoro naturalmente abbiamo anche le maniglie qui sopra per tenersi merci sempre più rara quindi ottimo lavoro ottimo passiamo invece sulla parte tecnologica qui davanti naturalmente abbiamo un aggiornamento anche per quanto riguarda tutta la plancia che devo dire ragazzi mi piace parecchio perché guardate un po' com'è diventata eccoci qua allora ovviamente quello che salta subito all'occhio è che sono riusciti a tenere quello che era lo stile tipico delle mini come abbiamo visto sulla Cooper e anche sulla countryman precedente eccetera cioè ovviamente lo schermo qui al centro che richiama naturalmente quello che era la plancia gli strumenti di bordo veri e proprie della prima mini che aveva tutto quanto qui al centro e qui diventa uno schermo da mi sembra di ricordare circa 9,5 pollici comunque poco meno di 10 pollici che sembra poco ma in realtà siccome si parla di un cerchio ovviamente è normale che le misure siano leggermente inferiore nonostante lo schermo sia di dimensioni assolutamente più che oneste mi piace molto lo schermo per come è stato pensato poi abbiamo anche tutte le selezioni per le modalità di guida direttamente tramite questo pulsante per andare a selezionare qua tutto ciò va a modificare anche tutta l'infografica della vettura sicuramente guardate qua ad esempio mettiamo la timeless fa anche rumori per fartelo partire in realtà lo schermo non è tra i più fluidi che abbia mai visto anzi in effetti c'è un po' di lag un po' di ritardo nei comandi vedete però per il momento teniamolo con un punto interrogativo perché questo è un esemplare di pre-serie quindi vedremo quando una prova su strada più approfondita se le cose miglioreranno oppure no però comunque per il momento diciamo che ci teniamo il dubbio abbiamo anche l'assistente vocale naturalmente Spike qui che è il nostro cagnolino bello disponibile ciao bellezza come va il metodo i servizi connessi il consumo prendetelo per quello che è ovviamente abbiamo usato la macchina male perché la stiamo provando quindi la stiamo usando male perciò non è un consumo realistico quello che vedete seguireanno prove approfondite e poi abbiamo anche tutta la questione degli ADAS tutto quanto si governa tutto ovviamente da questo schermo che con il nuovo sistema operativo 9 ed è compatibile anche con app di terze parti con lo streaming video con anche il gaming si possono attaccare i controller ad esempio dell'Xbox per capirci per andare a giocare quindi si può fare sempre più cose sotto questo punto di vista e poi mi piace questa plancetta comandi vi ripeto qua c'è il settore del cambio questo non mi fa impazzire qui però vabbè segue la filosofia d'accordo qui sono modrette di guida e poi guardate che bella l'accensione anziché essere un pulsante tipico si deve andare a girare per accendere poi il motore devo dire questa cosa ragazzi mi piace perché vabbè i pulsanti vabbè però è carino certo preferisco comunque la chiave meccanica io che sono un nostalgico però però girare è carino non mi dispiace questo è abbastanza carino poi ci sono delle vaschette qui porto oggetti ci sono tante cose che si rendono utili e poi il volante dall'impostazione sicuramente tipicamente BMW dal diametro bello ridotto con i pulsanti belli fisici ottimo lavoro mi piace godo paletta al volante qui dietro e poi là davanti abbiamo lo schermo delle dub display questa cosa qua ragazzi non mi piace non mi piace le dub display mi piace ma con la paletta così non tanto ve ne parlo magari meglio durante la guida però non mi fa impazzire però detto ciò sicuramente anche tutto l'interno plancia è diventato molto molto piacevole guardate un po' che design sicuramente interessante riescono sempre a rimodellare quella che è la tradizione senza mai discostarsi troppo da quella che è appunto la tradizione storica di Mini ma riescono sempre a reinterpretarla in chiave moderna lasciando che sia ben chiaro il rimando al passato all'heritage sicuramente sotto questo punto di vista Mini ha fatto veramente un ottimo lavoro per quanto riguarda anche i materiali l'estetica le bocchette del clima è tutto fatto veramente molto bene questa vettura qui dentro mi piace veramente tanto ora l'ultima cosa di cui parliamo è il motore prima di partire allora considerate che la gamma motore sentiamolo vediamo un po' è un po' finto un po' finto ne parliamo durante la guida però comunque considerate che la gamma motori è bella completa soprattutto per quanto riguarda la gamma termica perché sì chiaramente c'è anche l'elettrica ma seguirà un video a parte tra qualche giorno però per quanto riguarda la termica abbiamo a disposizione o un 1.5 3 cilindri base 170 cavalli oppure un 2.000 turbo benzina 4 cilindri da 218 cavalli a trazione integrale e poi abbiamo questa che non è elettrificata e un 2.000 turbo benzina 300 cavalli 400 Nm di coppia ovviamente a trazione integrale che si posiziona come la versione più potente endotermica disponibile quindi ragazzi non perdiamo ah ovviamente c'è anche il diesel diesel miglior motore della vita per sempre secondo me però comunque c'è anche ovviamente il 163 cavalli turbo diesel 2.000 che funzionerà sempre benissimo ma il hybrid anche quello quindi ovviamente va bene ma oggi siamo qui a provare questo termico più potente in gamma quindi andiamo subito a farci questa nostra prova su strada così non ho chiuso bene il cofano così non importa adesso lo chiudo comunque andiamo a farci questa guida su strada così ne parliamo un attimo di come va questa vettura siamo al volante ragazzi della mini John Cooper Works Countryman All 4 il nome più lungo della storia per dire che effettivamente secondo me ci troviamo su una delle vetture più interessanti nella gamma mini perché dovrebbe unire quel go car feeling della mini tipico tradizionale con quello che è la versatilità di un cross overino che poi nel corso del tempo è cresciuto di dimensioni siamo su 4 metri 45 però che comunque deve mantenere un buon equilibrio fra le parti soprattutto perché questa versione è un allestimento anzi una motorizzazione bella cattiva perché parliamo della termica più potente all'estino siamo sul 2000 turbo benzina 4 cilindri 300 cavalli 400 newton per metro di coppia e cambio doppia frizione a 7 rapporti chiaramente abbiamo una accelerazione da 0-100 in 5 secondi e 4 e abbiamo anche una velocità massima limitata a 250 km all'ora quindi le prestazioni sulla carta ci sono tutte diciamo che da guidare non è male perché ovvio vi dirò non sono neanche in modalità sport eppure il volante ha il peso corretto è buono da impugnare io non sono l'amante dei volanti molto spessi come BMW tipicamente preferisco quelli sottili ma è una preferenza mia personale però mi piace che il volante abbia un diametro bello ridotto è piccolo e comodo da maneggiare è bello facile l'assetto è rigidino ma su una John Cooper Work ci sta ci sta va bene quando si userà in città sul pavè sarà un po' un casino però su una JCS JCS sì JCW ci sta va bene ma soprattutto ci sta perché se io sono in una modalità di guida standard e già mi fa divertire ci siamo ovviamente possiamo andare con questo questo aggeggio possiamo andare a selezionare la modalità di guida più sportiva lo schermo non è proprio il più reattivo che abbiamo mai visto però possiamo andare sulla sì ecco di questo dovremmo parlarne hanno deciso di mettere questo Yahoo come dire è viva che bello mettiamo a guardare a go kart allora capisco effettivamente quello che pensi mentre guida in modalità go kart è Yahoo però non so se l'avrei fatto fare alla macchina ha fatto fare a me comunque ad ogni modo sicuramente aumenta anche la percezione di potenza e di sportività nella modalità di guida a go kart non è male sicuramente unico punto che un po' mi dispiace è che ragazzi sento voi che dite ma sono elettriche mettono un suono finto anche sulle termiche quello che sentite qui non è suono vero cioè una parte sì che viene da davanti ma dallo scarico c'è veramente poca roba anche gli scoppietti che sentite in rilascio che non ha fatto adesso ma non importa sono tutti quanti fatti dalle casse se andiamo a togliere il sound finto sentirai molto più rumore del motore che altro un po' un peccato secondo me perché questo è quello che è il mondo come sta andando è questo e quindi capite bene che il motivo per cui non mi arrabbio quando penso alle elettriche con il sound finto è perché tanto ormai manco i motor a pistoni fanno sound veri quindi normale è andata così ad ogni modo bello il fatto che questo schermo ovviamente vada a farti vedere un po' tutto sulla parte di guida ed è tutto personalizzabile con tantissime modalità di guida è sempre un po' sovraffollato però tutto sommato è anche piacevole da vedere quindi fa il suo dovere ve l'ho detto lo sterzo si comporta molto bene il cambio non è tra i più reattivi del mondo però trovo che sia più reattivo anche di altre vetture con lo stesso motore che ho provato sempre in casa BMW quindi probabilmente c'è una taratura generale dell'auto diversa un pochino più attenta alla sportività la reattività su Mini piuttosto che su BMW che ci può stare tutto sommato è più reattivo sicuramente e senti anche la differenza naturalmente fra peso volante e risposta del cambio in base alla modalità di guida su cui stiamo viaggiando se andiamo a rimettere però una modalità normale torniamo a parlare della parte invece più versatile di questa vettura e chiaramente ovviamente devo andare a selezionarlo chiaramente il solito rumore di benvenuto nella modalità di guida chiaramente la cosa cambia perché abbiamo a disposizione ho una tipo 4 porte abbiamo a disposizione una macchina che sicuramente riesce a comportarsi molto molto bene chiaro vi ripeto è cresciuta le dimensioni ed è una John Cooper Wars quindi è un pochino rigido l'assetto soprattutto di San Pietrini ora non si percepisce ma prima ho avuto modo di provarla e un pochino si percepisce la rigidità però devo dire che la versatilità di questa vettura si è mantenuta e crescendo in dimensioni ha anche aumentato lo spazio di bordo quindi tutto sommato ci può stare mi piace poi il fatto che abbiano messo gli ADAS di livello 2 finalmente per la prima volta di questo livello sulla gamma mini preso ovviamente dalla banca tecnologica BMW che sappiamo essere fra le migliori in assoluto per quanto riguarda gli ADAS a disposizione ed effettivamente l'auto praticamente guida da sola il centraggio automatico della corsia il controllo angolo cieco con la freccia va a cambiare da sola la corsia se percepisce che la corsia è libera e quindi può effettuare un sorpasso in autostrada quindi si guida veramente bene in autostrada l'unica nota stonata la stavamo provando con i colleghi è effettivamente logica ma no perché abbiamo uno specchietto retrovisore molto grande che rende molto semplice tra l'altro vedersi guardarsi intorno e quindi aumentare la sensazione di aver tutto sotto controllo però chiaramente lo specchietto rotondo è così grande a causa dei frosci aerodinamici un po' tanto percettibili già a 110-120 all'ora l'altra nota stonata che vi dico e questo effettivamente mi dà molto fastidio è la questione delle dub display perché va bene nel 2012 d'accordo le dub display con questa paletta di plastica però nel 2024 non è solo una questione estetica perché poi ripeto la plancia è carina effettivamente molto piacevole l'interno in generale delle mini è sempre molto accomodante tecnologico ma anche attento al passato con lo schermo rotondo è tutto equilibrato elegante piacevole quella paletta lì purtroppo oltre a non essere tanto moderna è anche un po' scomoda perché ovviamente ti costringe a inclinarla perché se sei alto più di un metro e ottanta te la devi inclinare quindi non è proprio comodissima non vedo perché non fare un head up display tradizionale che punta direttamente a specchio sul vetro è l'unica nota stonata effettiva di questa vettura oltre un po' vi ripeto alla questione dello schermo che non è proprio molto reattivo ma questo mi riservo di valutarlo quando sarà il momento con un esemplare di serie vero e proprio in prova perché questo è un pre serie però i ratagli unici di Fettucci sono quelli che vi ho detto prima perché per il resto l'auto è ottima già la versione precedente era ottima e univa al go car feeling con la versatilità di un crossover di queste dimensioni e questa va ad accentuare ancora di più quella versatilità che ha contrastinto la Mini Countryman e il suo successo nelle vendite quindi per queste prime impressioni direi che ci siamo quindi possiamo scenderti alla conclusione e parlare nuovamente di prezzi guardate che bello per spegnerla perfetto mi piace questa cosa mi piace veramente comunque ragazzi il giro ci lo siamo fatto direi che ci siamo fatte una bella idea per me la Countryman rimane un'ottima Mini perché sì è la meno Mini di tutte le Mini inteso come dimensioni ma per certi aspetti è veramente un'ottima Mini perché riesce a unire quello che fa la Mini Cooper classica la piccolina con la versatilità però di un'auto molto più grande quindi sotto questo punto di vista la Countryman aveva già fatto centro nelle sue generazioni precedenti e con questa versione che si modernizza così tanto e offre anche gli ADAS di livello 2 e tutto il resto più le componenti anche dell'ibrido del termico solo termico come questa qui oppure dell'elettrico del diesel ce n'è per tutti i gusti e questo sicuramente ragazzi non è affatto male ora parliamo un attimo di prezzi siamo su una partenza di 34.900 euro per la base 1.5 tre cilindri 170 cavalli a benzina mentre si arriva a circa 51.000 euro per la più potente come questa John Cooper Works chiaramente a trazione integrale tutto ciò ovviamente al netto di eventuali optional che potrete andare ad aggiungere quindi la forbice è circa 35.51 ora la forbice mi sembra piuttosto onesta non vi parlo dell'elettrico perché ripeto che per quella seguirà un video a parte però la forbice mi sembra onesta è bella corposa però mi sembra onesta anche perché l'auto comunque sono tantissimi aspetti merita davvero tantissimo però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della nuova Mini Countryman specie magari in questa versione John Cooper Works e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su Automoto ciao 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 ciao